Prenditi cura della mamma, mi raccomando. Conto su di te. Sono Kate Barclay, la moglie del colonnello Barclay. Vogliamo proporre alcune simpatiche attività per distrarci mentre i nostri mariti sono al fronte. Che ne dite di cantare? Cantare? Facciamo venire degli spagliarellisti. Allora, perché? Scusa. Se preferisci. No, 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 va avanti. Ok. Grazie mille, Lisa, va benissimo. Allora, mi sembra quando hanno divorziato i miei genitori. Sembravano un sacco pieno di gatti sbattuto contro il muro. Tu forse non hai bisogno del coro, Lisa, ma queste donne sì. Il generale vuole che cantiate al concerto della memoria. In tv, quello famoso. Non sai fare altro che criticarvi, ma io ci sto provando. Sarà un vero disastro. Mi prego, non mollate. I nostri mariti saranno orgogliosi di noi. La musica non diventa grande quando tutto è perfetto. Lo diventa quando ci tieni. RDS insieme a te voglia di grande cinema.